non mi hai pagato più tutti in piedi perché signori questi quattro ragazzi vi insegnano come fare soldi su field grazie grazie però non basta basta applausi per favore grazie eh la smettete? è uno stronzo è un coglione o strava è un pirla che cosa è passato? noooooooo Giam 20 minuti fa avevi trovato la scimitarra una spalla lui c'era Ah sì, fammi andare un attimo sopra Provo la missione finale Oh cazzo, vai, l'ancera Arrivando per arrivare a dire giochiamo, non giocherò Bene, esco dal canale Ah 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 Jammo, che è successo? Ah sì, entro dal maestro E entro dal maestro L'umaga ha fatto una cosa tipo da Need for Speed Cioè tipo si è girato e è continuata ad andare all'indietro E poi si è rigirato Ah pippo Levate dal cazzo Porco Dio No non ci credo Guarda l'umaga l'avete buttato No, le vostre mani sono No dai, qui, qui Da prima l'avete buttato fuori Mi prendesse in colpo, porco Dio Ah capo Capo, ero io Dai, mi trovi il demon invece Ma te lo trovo, te lo trovo subito Te lo trovo Figlio di Zoccola, porco Dio Mezza gara da primo e so finito ottavo Ah ah Io ho preso il guardrail e so finito sesto Cioè come fa a essere così figlio di Zoccola? Cioè ti devi impegnare per essere così figlio di Zoccola Rockstar Rockstar Games Rockstar Games Oh bello? No 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 Non lo dico che cosa è successo Preferisco non dirlo Killer ma Portacci tu E che cazzo Se ma stava fermo su sto gioco Per un attimo Oddio Un seg... Porco Dio Sì per me è tipo cazza Jiu Jitsu Cioè domani attacco Ma perché è cazza Jiu Jitsu Non è Jiu Jitsu Oh ma è... Oh sattanea Sono il vecchio di Dragon Ball Evolution Pare che non mi posso mettere in vestito perché sono Ma non c'ha senso sta cosa Scusa aspetta un attimo Allora io da qua ce sono arrivate Ah Porca madonna Puttana stronza Lida Ma tu ma che cazzo sei C'ho il volume a mille Mi sono cagato in mano Troi Metti un euro su tutto Metti un euro Ma tu Carzo dove? Da per tutto Porco Dio Ok Ok Allora O NARU I NABO NARU O NANU O NANU O NANU Ma che è il timing di un nanu che esce dall'ombra Dal coso, dalla polvere Allora io mi sgozzo in live se non arrivo davanti al K a fine classifica porco Dio Ma sai che figata Ma niger Mi sembra un po' eccessiva Ma infatti Cioè oddio in realtà non così accessibile Parco Dio Sì per me è tipo cassa jiu jitsu Ma perché è cassa jiu jitsu Non è jiu jitsu Ti chiami mi ricordi saverli Tiger vieni qui tiger Tiger Primo nell'elenco tiger Ma come solo Gioca Ma frate ma potrei mettere due giri questa C'è arrivato prima perchè l'ha addobbato Ma si No non l'ha addobbato zi non hai capito che cosa ho visto Ce l'ha visto lui Ma ho visto solo che finiva e non c'è arrivato Ho visto proprio Mi sono immaginato un uomo morto Ma chi è arrivato undicesimo? Il cazzo è arrivato Oddio che spavento Uff Uff Ma chi è? Uff 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 Ero boni boni Calmateli Perché ora non finite Rainbow Six all'incendio Mai Porco no Oh no Rainbow Six stream oggi Vabbè No No mi sto sniffando cocaina No se Finita Quando finita se finita Tanto non è un boss Zero 38 Axel Sempre che colpisce Incredibile Ah Ho giocata Avevo messo 300 L'avresti perso Non è vero Avremmo Cassato Paraparapappa Voglio scossarmi D'anglo grazie ai 100 biz Vedi perché ti dico Bisogna avere le palle Sussì Sì ma Craps C'è C'è stato Anco Stassi fermo con le mani Lascia stare la chat Staggia la madonna Porca 40 centesimi Già mo Che cazzo dici Eh sì Come c'ho 40 centesimi Guarda questo che si è inventato Sto pasto No non deve entrare quello da tre E' il muro da Hamburgerona La palla lì Stanno imbattuta La riprende il su Ma Hamburgerona la prende Ma fa partire Ma il grande ninja lo riprende No grande ninja Boom Niente da fare Non vale E' 5 a 3 Così che tu possa riportare l'antico al suo sonno No 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 Oh no no Non lo vuoi Oh no no Oh no no Oh no no Ah sì Stavo fra te Ci avevo Pensavo ci fosse un terremoto Te giuro A presto